Buongiorno a tutti e benvenuti su investire.biz, ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica Caffè e Mercati. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato ieri alla sessione di trading con Ichimoku dove abbiamo fatto diverse analisi e abbiamo commentato anche i nuovi trade che abbiamo aperto su petrolio, che abbiamo aperto sull'oro e anche su alcuni cambi valutari. Prima di andare a vedere i grafici però andiamo un attimo sul nostro sito, eccoci qui, perché ci sono già un paio di articoli. Questa mattina si parte con Turbo Daily insieme a Paolo, bilanciamo il protofoglio con Unicredit, analisi Forex, GBPUSD, opportunità short con rientro nel canale, poi anche altri articoli. Ricordo che questa è la settimana del Black Friday e investire.biz ha pensato un'offerta per tutti, quindi se andiamo nella sezione corsi di investire.biz e prendiamo per esempio questo corso molto bello sugli ETF e sugli ETC, possiamo acquistarlo con il 30% di sconto se applichiamo il coupon Black nella sezione coupon. Ecco quindi che andremo a pagare 349€ al posto di 499€ e questo lo si può fare su tutti i corsi del sito. Bene, ora andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading. Scusate, eccoci qui, partiamo dal Gold. Gold che dopo aver testato una zona molto molto importante in area 1.804$ per oncia, un minimo molto importante che abbiamo individuato sul time frame settimanale e è il minimo di questa settimana, i prezzi hanno segnato dei massimi e dei minimi crescenti sul time frame orario, anche se, devo dire, non c'è molta forza. Quindi noi ci siamo posizionati al rialzo, ma già dopo la rottura di questa trend line non solo usciremo dalla posizione long, ma entreremo short, proprio perché vediamo che c'è abbastanza debolezza sull'oro in questo momento. Andiamo invece a vedere il Gold. Gold che è sceso dai massimi, quindi è sceso da 46$, ha segnato un minimo in area 44,25$, 44,25 tra l'altro è un livello supportivo abbastanza interessante. Noi siamo posizionati al ribasso e il nostro target è proprio 44,25$. Quindi dopo questo impulso abbiamo atteso il ritracciamento e siamo entrati esattamente da 45,30$ al ribasso. Una buona parte del percorso è già stata fatta, quindi abbiamo spostato lo stop loss in pareggio, si può anche valutare di portare a casa parte della posizione. Comunque il nostro target price lo abbiamo spostato a 44,30$. Andiamo però avanti perché dobbiamo parlare anche di GBP Yen, siamo usciti dalla posizione perché i prezzi sono scesi, non hanno raggiunto il nostro target price finale in area 138,80$ e quindi questa mattina su questo piccolo rimbalzino abbiamo portato a casa la posizione. Non abbiamo fatto un profitto, non abbiamo fatto nessun profitto importante, però comunque abbiamo chiuso questa posizione in lieve profitto. Invece andiamo a vedere WestyCard, WestyCard che sta attaccando la zona dei minimi precedenti. Ecco, se questa zona dovesse essere rotta allora si aprono degli spazi almeno fino a questi minimi in area 1,29,40$, 1,29,30$. Quindi la mia view rimane realzista per il momento con obiettivo almeno in area 1,30,40$ e obiettivo individuato sul time frame giornaliero. Però insomma alla rottura di questo supporto usciamo dalla posizione e apriamo delle nuove posizioni short. Bene ragazzi, direi che per oggi abbiamo visto tutto quanto, vi ricordo quindi il coupon black che vi permette di acquistare qualsiasi corso presente sul sito investire.biz con il 30% di sconto. Rinnovo invece l'appuntamento per il webinar del lunedì della prossima settimana. Buona giornata, buon training a tutti, ma soprattutto un buon weekend.